Si continua oramai da qualche giorno incessantemente a studiare ipotesi e sospetti sulla brutale uccisione dell'anziano 89enne di Palma di Montechiaro. Una situazione che ha dell'ingredibile per come è avvenuto il fatto e sono in molti in paese a chiedersi il perché. Gli investigatori infatti stanno cercando in tutti i modi di arrivare all'obiettivo a ciuffare i malviventi che hanno massacrato l'anziano 89enne. Ricordiamo che l'uomo è stato trovato con le mani e i piedi legati all'interno della sua abitazione di via Pietro Attardo dopo che i vigili del fuoco sono andati ad aprire la porta. I carabinieri sospettano una rapina finita male, avviate le indagini da parte dei carabinieri con l'aiuto della scientifica. La procura della Repubblica con in testa il pubblico ministero Chiara Bisso ha affidato l'incarico ad un medico legale che dovrà procedere alla autopsia stabilendo in che momento il pensionato avrebbe perso la vita. Le indagini proseguono con determinazione con tutte le risorse e di mezzi in campo ha dichiarato il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, il conollenlo Giovanni Pellegrino. Michelangelo Marchese, questo è il nome dell'anziano, prima di andare in pensione svolgeva la professione di agricoltore. Era un padre esemplare di tre figli e nonno felice. continuano ad essere ascoltati parenti ed amici della vittima ed anzi si stanno verificando anche eventuali impianti di videosorveglianza pubblici e privati che saranno recuperati per essere attentamente studiati ed analizzati.